Facciamo attenzione per tutti, Viale di Porta di Burtina hanno segnalato una rapina in atto, Viale di Porta di Burtina. I 10.40 del turno mattutino, erano i 10.40, la segnalazione alla sala operativa ha diramato una rapina in atto, non meglio specificato obiettivo, sono state chiamate alcune unità operative, la San Lorenzo, mi ci sono portato io come Betacom e stavano sopraggiungendo anche altre unità operative, a un certo punto la San Lorenzo che è arrivata quasi subito sul posto. 21, San Lorenzo 1 sul posto, scendiamo e ti facciamo sapere. Sì, bene, facci sapere che qui la richiedente è un po' confusa e non ci fa sapere nulla. Si era capito che comunque l'obiettivo era questa filiale bancaria e praticamente i abbinatori erano ancora all'interno della banca. Sono arrivato anch'io e praticamente abbiamo visto con la San Lorenzo che il direttore usciva dalla banca sotto minaccia di un'arma ad opera di un rapinatore. Seguenzata la persona, alzze questa rapina. Bene, riesci a vedere se sono armati? E praticamente questo rapinatore ha portato con sé via, ha preso in ostaggio il direttore della banca e si è incamminato, si è incamminato verso via dei Gaudini. E da Como, posizione. Via dei Gaudini, via dei Gaudini. Via dei Gaudini. Più volte gli abbiamo intimato di arrendersi, che comunque ormai la situazione stava diventando troppo particolare. Gli abbiamo intimato di arrendersi, lui invece di tutta risposta andate via, posate le armi, gli sparo, o lui in ostaggio, andate via, andate via. E man mano abbiamo proseguito per via dei Gaudini, via dei Gaudini abbiamo voltato a sinistra e siamo arrivati a via dei Gaudini, via dei Gaudini, lui comunque la gente che era intorno a noi ci osservava, eravamo io, l'altra collega che è in macchina con me, Rossella, c'era il collega Peppe del commissario San Lorenzo. Abbiamo proseguito il rapinatore con il sequestrato davanti, sembra questa pistola che lui la puntava verso di noi, la puntava verso il direttore. Se sta portando la pistola, c'è il cabello famoso posto. Facciamo attenzione. All'altra parte. Mondo via dei Frentani. All'entrata via dei Dauni. La via dei Dauni. Sempre con il rapinatore davanti, che ci intimava di lasciarlo andare, ci intimava di buttare giù le armi, di consegnargli le armi, noi comunque non abbiamo ascoltato quello che lui ci diceva, cercavamo di tenerlo un po' a distanza, un po' ci avvicinavamo, poi ci avvicinavamo e chiaramente vedevamo che lui comunque era carico, era convinto di portare al termine il discorso della fuga, cercando in tutti i modi. Qui siamo arrivati all'angolo con via dei Taurini, qui sono inciampati, il direttore è caduto per terra, lui l'ha fatto rialzare e qui noi ci siamo nascosti dietro, ci siamo arrivati dietro questi secchi dell'immondizia, lui ha proseguito, qui si stava già creando un campionino di gente che vedeva, gente che strillava. Sono ancora per strada, attenzione, sono armati di pistola. Via dei Ramni, via dei Ramni, pacchia della strada. Allora un equipaggio, via dei Ramni per chiudere la strada. Sono stati diminuti, interminabili, io gli intimavo, guarda, stanno arrivando, sento delle sirene, stanno arrivando altre macchine, posa le armi, posa l'arma, cerchiamo di ragionaci, ragionaci, io vi ammazzo, vi sparo, sparo lui, buttate le armi per terra, poi ci riparavamo perché ogni tanto lui girava l'arma nei nostri confronti con l'intenzione di sparargli. Un altro rabbinatore stava all'interno della banca, poi in secondo momento è stato fermato da altro personale. Prenzo uno. Pranti? Uno degli operanti ha bloccato uno, eh. La posizione, dove stai? Di Frantani, siamo assicurati, siamo all'ispettore. L'altro gli stanno agli colleghi. Via dei Frantani, bloccato e assicurato dentro la macchina, stava ancora all'interno della banca. Bene, e l'altro? Sto a piazza di Sicoli, gli stanno agli colleghi, c'è uno stagio, ha fermato, la pistola è vera, mi ha detto quest'altro, eh. Fai indossare protezioni, è armato, piazza di Sicoli, sta procedendo. Vestito di marrone, c'è un dipendente con camicia e cravatta. Sì, ma lo state inseguendo allora, via dei Ranni, vestito di marrone, confermi? Confermo, piazza di Sicoli. Poi siamo arrivati qui in piazza dei Sicoli, qui davanti a questo stop ha cercato di bloccare questa Bravo che era di passaggio con un signore all'interno, il signore poi non si è fermato e siamo arrivati praticamente qui davanti, ecco tu vedi qui ci sono questi secchi dell'immondizia, praticamente c'era il furgone parcheggiato parallelo a questi secchi e niente, lui siamo arrivati qui, lui ha cercato di salire su questo furgoncino, non ci è riuscito e praticamente a un certo punto ho visto che lui comunque aveva tolto l'arma che era indirizzata verso il direttore e praticamente niente, praticamente è stato bloccato. E tu non vai da como? Vai da como avanti, vai vai. Siamo bloccato, non è sta Lorenzo, è bloccato, l'abbiamo disarmato, abbiamo tolto l'arma. Piazza dei Sicoli, mi confermi? Piazza dei Sicoli, sì, sono bloccato, abbiamo lasciato anche l'arma, dobbiamo accertare bene l'arma, l'abbiamo liberato l'impegato della banca, l'abbiamo liberato. Ebbene, complimenti a tutti, bravi complimenti. L'abbiamo bloccato, poi sono arrivate altre unità, l'abbiamo manettato, gli abbiamo tolto l'arma che lui aveva indosso, una pistola con il colpo in canna, carica con all'interno cinque colpi. In quei momenti io, di tirare davvero la mia esperienza, posso dirti che comunque io in quel tragitto l'ho pensato di tutto, più tempo passava e più pensavo di tutto, spara, spara a noi, spara al direttore. Questo guarda, questo comunque ti posso vedere, non mi era mai capitato un discorso del genere, questo veramente è come dicevi prima tu, è come un film di Maurizio Merli, quando Roma a mano armata, quando il rapinatore usciva fuori dalla banca e prendeva di nostalgia il direttore per non farsi catturare dalla polizia. è la stessa identica cosa, guarda, momenti vissuti proprio, guarda, momenti che non finivano mai, non finivano assolutamente mai, guarda, veramente la cosa, dopo che l'abbiamo disarmato poi sai la trenina ti cala, sai, a fine pensi è andata bene, è andata bene così. Sono quasi 14 anni di servizio, però in effetti un intervento del genere non mi era mai capitato e questo è proprio il classico intervento da manuale, quello che insomma ci insegnano ai corsi e che magari mentalmente non sei mai in grado di affrontare, però poi quando ti ci trovi, in realtà probabilmente ti stupisci della tua reazione, di sicuro è stato insomma di impatto, il risvolto è stato più che positivo in questo caso. iscriviti al nostro canale